Oggi parliamo di Square Enix e del Tokyo Game Show, perché pare infatti da una soffiata del noto analista Jeff Corden pare che la serie, tutta la serie di Final Fantasy, sia in realtà in programma e in uscita anche su Xbox. Ovviamente non avverrà tutto subito, però pare che verranno fatti degli annunci in merito proprio durante la manifestazione giapponese e pare quindi che la serie di Final Fantasy, a partire probabilmente da Final Fantasy XVI e poi successivamente un po' tutti i capitoli della saga compresa la Pixel Remastered, arriveranno quindi in futuro anche su Xbox. Non si sa ancora quando, però dovremmo ricevere almeno un primo annuncio su questo appunto accordo durante l'altro Tokyo Game Show. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se siete fan Xbox che non aspettano altro che poter giocare a tutti i capitoli di Final Fantasy anche sulla console Microsoft, io penso che farà un gran bene all'industria. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video.